Buonasera. Allora, partiamo dal presupposto che l'intrattenimento non è assolutamente innocuo come si vuole far passare. L'intrattenimento educa buona parte del Paese. Quindi tutto quello che è il racconto kitsch e naif del matrimonio di Tony Colombo non è semplicemente un staccare la spina e permettere agli italiani che assistono a quello spettacolo di non pensare a niente. Perché l'intrattenimento è quello che vedono la maggior parte degli italiani che non guardano Angela, i documentari su Netflix e tutta una serie di cose che non sto qui ad elencare. Quindi quel tipo di intrattenimento propone un modello, può creare emulazione e nella migliore delle ipotesi normalizza qualcosa che normale non è. Perché Tina Rispoli è la vedova di un boss della Camorra e non di un personaggetto in seconda linea, ma di un boss in linea. Scusa, scusa.